Il nuovo ospedale di Pesaro da realizzare a Muraglia torna sul tavolo del Consiglio regionale. A rinnovare la questione, il gruppo consigliare del Partito Democratico sull'onda di un'iniziale previsione di inizio lavori indicata nel cronoprogramma entro la fine di dicembre per poi terminare l'opera tre anni dopo. Rispondendo all'interrogazione in merito, l'assessore regionale con delega all'edilizio ospedaliera Francesco Baldelli ha relazionato su una situazione che attende due esiti per essere messa in moto. In primis quella delle parere favorevole del nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero della Sanità al quale la Regione ha inviato tutta la documentazione del progetto da 204 milioni di euro per 382 posti letto. A rallentare la questione c'è però anche un ricorso al TAR del gruppo secondo classificato nella gara per la progettazione. Una procedura che di fatto è già stata aggiudicata in estate ad un raggruppamento di professionisti composta dallo studio Paci Beta di Pesaro da SD Partner, Politecna Europa, Architetto Piscitelli Associati, Adarte e Agro Service. La Regione Marche è quindi pronta a procedere con l'avvio delle lavorazioni e attende soltanto l'esito previsto nei prossimi giorni del ricorso davanti al Tribunale Amministrativo promosso dal secondo classificato verso la procedura di gara della stazione appaltante. Si procederà quindi con la demolizione e l'avvio della realizzazione del nuovo ospedale di Pesaro che visto il sito prescelto verranno gestite in maniera parallela e concomitante. Quindi siamo pronti a dare avvio alla realizzazione non appena ovviamente avremo la decisione del Tribunale Amministrativo sui primi due che hanno avvinto la gara e hanno presentato un ricorso. Grazie. Scetticismo da parte del Partito Democratico per un progetto reputato ancora ben lontano dal vedere la luce. Come farete allora a procedere alla demolizione, a procedere alla ricostruzione su tutto il terreno in cui si è ricavato lo spazio necessario entro il 31 dicembre 2024? Sembra veramente impossibile, a volte nemmeno per costruire una casa si riesce a fare tutto ciò in due mesi, figuriamoci per un ospedale forse sarebbe giusto iniziare a dire che siamo molto in ritardo, non leggermente. Questo mi fa dedurre che si naviga a vista, che non sono stati rispettati i tempi del cronoprogramma iniziale, purtroppo io non vi imputo colpe ma bisogna anche prendere atto che sull'ospedale di Pesaro ancora siamo in alto mare, non ci sono altre deduzioni.